SIGLA PER UN PELO SEMPRE SE ALLATI SEMPRE BUONASCINA! Ma se io ti chiedessi di lasciarle, di metterti con me? Ma tu scherzi sempre! Mio padre mi dice sempre che lei è stato il più bravo tornitore dell'azienda. Sono andato in prepensionamento, sai, lavoro non ce n'era più tanto. Gli anziani costano di più. E che pirla che sei. Senti più, dall'orecchio sinistro o dal destro? Sì, finissimo. Senti papà, io e Chicco volevamo dirti una cosa. Mi devo preoccupare? Sì. Mamma! La sei spusa l'Emilia, te capii? Quanto mi può costare secondo voi tutto? È che non vedevi l'ora Antonio. Ti rivolesti i soldi che c'ha la figlia sola. Quanto tempo ci vuole per avere 30.000 euro sul conto? Io vedo che le sue azioni piangiano bene e spiegate. Lasciali tranquille di aumentare il loro valore. Posso vedere la mia situazione adesso? Sono soldi miei, non le pare? No, devo chiederle di passare un'altra volta. Tu non hai avvestito i tuoi risparmi in azione. Non sarai stato così pazzo? Io ho firmato come sempre, Margherita. Non avevo capito. Io mi fidavo. Non è il momento di fare grandi cose. Magari faremo più avanti una festa. Che dici? Possiamo fare meno di tante cose, ma non del matrimonio di mia figlia. Io non ho mai messo niente in azione. Non sapevo niente di azione. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Tutto quello che ho in quella banca è il lavoro di una vita. Ho sbagliato solo io, Umberto? Dimmelo! Chi ha sbagliato solo io? Dimmelo! Mi hanno tolto tutto. Ma un giorno all'altro non ho più nulla. Ti sei occupato di me tutti i giorni della tua vita per 27 anni. Adesso posso aiutarti? Tranquilla, dai. Stai tranquilla. Sia giusta. Evviva! 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 Ti ricordi come rideva l'Emilia col gioco del matrimonio? Ta-ta-ta-ta-ta! Cristina parlox, zupiaéndola la Mel Repubblica nellang начала. Ho tu 뉴스! Viva la lapa!